La giornata di apertura del CSI della Bagnaia inizia con due bellissime vittorie, con due bellissimi atleti che abbiamo qui nel nostro divanetto del salottino VIP della Bagnaia. Una delle gare di questa mattina l'ha vinta Claudia Rossi e l'altra l'ha appena vinta Guido Franchi. Ciao Claudia, come è stato questo approccio con questo terreno meraviglioso per te che se non sbaglio è il primo concorso qui alla Bagnaia? Infatti è stata la mia prima gara qui e è stato veramente fantastico e pieno di emozioni. La cavalla è stata molto brava, è stata molto tranquilla al nuovo campo e infatti sono molto contenta. Hai battuto cavalieri molto esperti e molto agguerriti ed è per te una vittoria in casa perché tu sei toscana? Sì, vado al club IP Cosenese, è il posto dove ho iniziato, poi ho cambiato in pro e sono tornata lì. Bene, allora un bocca al lupo. Diciamo che nessuna di voi due deve essere superstizione perché oggi è venerdì 13, siete riusciti a vincere. Quindi naturalmente non può che essere a migliorare la situazione. Claudia lascia il microfono al freschissimo vincitore che è stato uno dei protagonisti proprio dell'edizione 2018 ma che sente questo concorso come il suo perché è senese. Guido Franchi. Buongiorno. Questo inizio è stato con Alesi Z che sta crescendo giorno dopo giorno e diciamo che questa prima vittoria sicuramente ci fa ricordare la bellissima edizione 2018 di Bagnaia. Sì, l'anno scorso è stata un'edizione bellissima per me, è ancora lunga raggiungere l'edizione dell'anno scorso ma ce la metterò tutta. E allora ragazzi vi faccio innanzitutto i complimenti perché avete aperto questa edizione con due bellissime vittorie e naturalmente spero di riavervi nel nostro saluttino dei vincitori. Claudio Rossi, Guido Franchi. Grazie. Grazie mille ragazzi.